Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e quest'oggi siamo tornati qui per un nuovo video recensione. Oggi sì, ho portato un'altra Energy Drink in versione Sugar Free che potrebbe piacervi molto. Eccola qua la lattina di Energy Sugar Free che come promesso alla fine ho portato. Non è passato molto tempo da quando ho recensito la sua versione standard, però sono curioso di provare anche questa versione qui, quella senza zucchero. Di solito mi è capitato qualche volta di notare qualcosa di diverso rispetto alle standard in queste qua che sono Sugar Free. Proprio perché la presenza dello zucchero a volte influisce molto sul sapore, eh ragazzi? Perché spesso comunque in fondo si cerca di tenere lo stesso sapore, si cerca di mantenere gli stessi aromi, gli stessi retrogusti. Quindi le aziende lavorano per far sì che la bevanda non perda il suo gusto. Proprio per la mancanza di zucchero, quindi non risultare amara, perdere gusti particolari. Insomma, si cerca di renderla il più possibile simile a quella standard. Quindi prendiamo e visioniamo prima il design, dopodiché la assaggiamo. Ecco qui ragazzi la nostra lattina di Energy. Sembra proprio una batteria per come è fatta, però a me sto design sinceramente piace un sacco. Infatti il fondo della lattina almeno è colorato, infatti è di questo azzurro molto acceso. Vediamo scritto Energy, tutti questi tuoni, questi fulmini che si ritrovano intorno alla scritta stessa, ovviamente with taurine, perché contiene taurina. Vediamo se vi ricordate in quale video ho mostrato una Energy Drink senza taurina. Se ve lo ricordate scrivetevelo nei commenti così vi lascio un cuore. Comunque qui ovviamente vediamo scritti i valori nutrizionali, 250 ml, gli ingredienti caso mai vi interessassero. Quindi ci resta solo una cosa da fare, quindi proviamola. Eccoci qui ragazzi con un bicchiere trasparente, apriamo la lattina e vediamo un po' com'è. Ecco l'acqua ve la metto sul fondo così potete ammirarla. Allora, colore classico, ovviamente non ha molte differenze, è veramente trasparente, si nota una leggera, infatti si vede trasparenza proprio al fondo. Sembra molto frizzante ma ricordo che la Energy Standard non lo era, nonostante facesse tante bollicine. Quindi proviamola e vediamo come si comporta. Ok ragazzi, ecco qui la Energy, adesso la provo e poi vi do il mio parere. Allora ragazzi, per essere una Sugar Free ha un sapore abbastanza intenso, è raro che le Sugar Free mantengano un'intensità di questo tipo. Sta di fatto che è un po' più frizzante rispetto alla Standard e questo non me lo aspettavo perché pensavo avesse un gusto un pochettino più accentuato ma meno frizzantezza. Pertanto devo dire che è un'ottima bevanda, per il resto sì. Non ha retrogusti particolari però è molto molto buona. La vedo infatti un po' diversa rispetto a quella Standard, lo ripeto, però vi consiglio di provarla. Se volete una Sugar Free classica anche questa qui va molto bene. Che dire ragazzi, io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e soprattutto consigliatemi nei commenti se conoscete altre Energy Drink particolari. Mi raccomando. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!